Ben trovati, ieri abbiamo parlato delle difficoltà di fatto che il centro-sinistra sta avendo nel poter indicare in modo definitivo e certo il proprio candidato sindaco, sia l'uscente Salvemini, perché vi sono degli scricchioli tra cespugli e anche momenti di riferimento della coalizione, tanto come abbiamo già detto che sono scesi e continuano a scendere i leader territoriali per tentare di bonificare questo malumore, questo è già un dato, ma questo dato, attenzione, spero anche per la bellezza di un confronto democratico importante che da qui a 11 mesi potrebbe o rieleggere Salvemini o avere e indicare un nuovo primo cittadino, non si cugli il centro-destra che già tempo fa disse e pensava di indicare il candidato prima dell'estate, poi subito dopo questa ed ora una serie di riunioni che vi sono state e che vi saranno presumibilmente almeno prima dell'estate non sortiranno un nome, ma come dovrebbe essere il soggetto o chi dovrebbe essere il soggetto che andrà a scontrarsi in campagna elettorale proponendo un progetto di città, un programma per il futuro della pubblica amministrazione. Io ritengo debba essere un uomo di sopra delle parti, nel senso un uomo che conosca la politica, attenzione, che abbia una capacità programmatica e pragmatica e che voglia realmente affrontare una lotta per i prossimi 5 anni che lo vedranno sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, quindi nella città, ma parliamo dell'identikit, visto quelli sbagliati sino ad oggi dopo l'epopea Poli e Perrone, ma che abbia quella capacità di lottare sapendo delle mille difficoltà e che abbia quelle risorse intellettive e di formazione culturale svincolata da una logica prettamente partitica e determinare il bene comune. Da casa direte belle parole, sì condividiamo, ma dove lo andiamo a cercare? su Marte? No, non penso che soltanto Marte possa suggerire un nome, io ritengo forse che i partiti dovrebbero comprendere che tutti e anche quelli del centro-sinistra, che la futura politica o il futuro della politica per i prossimi anni passa dalla loro capacità di rigenerarsi utilizzando anche risorse che ad ora non sono nei partiti, che ad ora sono nella cosiddetta società civile o che ad ora proprio per paura di rimanere coinvolgliati in quella logica partitica anche di misera estrazione politico-culturale e hanno magari scelto movimenti oliste civiche. Quando ci sarà questa freddezza nella politica, nell'attesa che ogni classe dirigente sia adeguata al governo delle città, lì noi potremmo stare un po' più tranquilli. A domani!